Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado. Oggi, mi fa morire questa Cotori, scusate. Oggi, prima parte del Mega, Mega Scout per il primo anniversario di All Stars. Allora, probabilmente vi sarete accorti della UR Natalizia di Cotori che c'è in home page e del fatto che non sia arrivato nessun video scout a riguardo. Questo perché? Perché non esiste nessun video scout. Questa UR di Cotori ha avuto, non so per quale grazia divina, l'idea di uscirmi al secondo Yolo Paid che avevo fatto nel suo banner e di conseguenza nessun video. Avevo già in realtà deciso di non registrare, di non fare nessuno scout in occasione appunto dell'anniversario e degli scout che sarebbero arrivati. E quindi, niente, lei ha deciso di premiarmi così, mi premiasse così anche su Sif, sarei molto contenta. Comunque, allora, oggi, prima parte di questo gigantesco Mega Scout, oggi cosa andremo a fare? Oggi andremo a fare 17 pool gratuiti con tutti i ticket da 10 che sono stati dati dal gioco e poi andremo a fare i primi due step. Perché i primi due? Il primo, vabbè, è free e ok, siamo tutti d'accordo. Il secondo, come potete notare in alto a destra, ho raccimolato, mettiamo così, 200 star jump paid perché ho voluto testare, sto testando il pass, quello, sì, il pass, non so come si chiama, quello mensile. E quindi, niente, ho raccimolato questo star gemme e quindi andremo a fare i primi due step. Prima, però, faremo questi qua. Sono 17 pool, i rate sono i soliti e in questo box non ci sono carte FES quindi qui andremo un po' a cercare magari qualche carta nuova. Direi di iniziare perché il video sarà lungo, sono 18 scout, quindi... Iniziamo molto bene. Vediamo. Spero in qualcosa di nuovo, sinceramente. Ok? Ok, due sterre, eccola qui. Molto bene. Questa è nuova, esatto, questa è Nico, molto carina. Ok, per le rare direi di... Uh, nuova, anche questa è no zombie, molto bene. Vediamo. Oh no, che carina! Shizu, su è nuova! Chiudi! No, che bella! Oh, sono troppo felice. Molto felice perché mi piace tantissimo quella UR, quindi molto molto contenta. Bene, primo video, primo scout, volevo dire, è andato più che bene. Tre carte nuove, tra l'altro sono appunto gratis, quindi ancora meglio. Secondo pool. Manco! Uh, no! Ho schippato senza volere, che stupida! Vabbè, vediamo. Oh, no zombie! Forse è nuova? Esatto. Ok, bene. Dobbino. Andiamo a vedere l'SR. Comunque, quando i free pool vanno male, vuol dire che quelli con le star gem saranno un disastro. Ok, vediamo. Oh, un'altra Shizuku, nuova, molto bene. Sono contenta. Dovrebbe esserci, esatto, un'altra SR. Uh, che bella questa Emma, nuova anche lei. Molto bene. Molto molto bene. Direi di andare col terzo. Forza e coraggio. Ok, qua sono le SR, che poi in realtà può sempre scriverla a qualcosa, però insomma. Ok. Garantita? No, 2 SR, ok, va bene. Ok, questa carina è nuova. Non dirò i nomi dei set, ragazzi, perché sinceramente, in modo molto vergognoso, non li so, non me li ricordo. Cioè, non è come Sif che riesco a collegare la carta al set. Purtroppo su All Stars non sono così diligente, quindi, cioè, prendetelo così come viene. Vediamo chi è. Uh, che bella questa cicca. Ce l'avevo già, davvero. Ok, molto bene. Molto bene. Andiamo con il quarto. Forza, Shiny! Ok. Una. Due. What? Ma cosa vuol dire? Ma come? Questa uno che ce l'ho già, esatto, è quasi, quasi maxata. Molto bene. Un'altra UR, ma come? Ok, questa Emma ce l'ho già, infatti anche lei è quasi maxata. Dai, vediamo. No! No! E' questa qui, veramente! No! Io adoro questa Amaru! È troppo carina! Mi fa troppo ridere questa Amaru! Oh! Sono felicissima! Ma poi è nuova, quindi, insomma. Sì! 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 Molto bene, molto, molto bene. Perfetto. Perfetto. Andiamo con il quinto. Beh, per ora su quattro pulo, tre UR non male. Ok. Ok. Una, due. Vediamo se c'è una terza. No. Due SR, va bene. Ok, dovrei... Ah no, è nuova! È nuova! Sta sciorico, veramente? Ok, questa Anika è nuova, esatto. E io direi di andare avanti veloce qua, perché... Dovrebbero essere tutte R, può sempre stirrare qualcosa, però, insomma... Ok. Forza su. Ok. Bene. Contenta per quella sciorico nuova. Andiamo con il sesto. Shiny. Ma cosa vuol dire ancora? Boh. Boh. Io non ho parole, comunque. Ok. Uh! Che siano due, allora? No, no, una, una. Ok. Una UR e una SR. Vediamo se anche qui è qualcosa di nuovo. Questa Rina ce l'ho già. Vediamo, vediamo. Eccola. Mia! È Rin! Dovrebbe essere la cinese che... Ce l'ho? Mi confondo con Emma. No, non ce l'ho. Perfetto. Nuova anche lei. Molto bene. Molto, molto bene. Cioè, sto pescando solo UR nuove. Sono molto contenta di questa cosa, sinceramente. E' anche spaventata. Bene. Ok. Andiamo con il settimo. Forza! Uh! Mystery Pool. Vediamo un po'. Cosa ci offrirà questo Mystery Pool. Ok. N'SR. Ha garantito. Ok. Va bene. Ci è stato. Tutti quei... Questi... Questi... Questa è nuova. No, non è nuova. Perfetto. Molto bene. Questa è nuova. Vabbè, schippiamo, ragazzi. Ok. Infatti, tutte le altre erano delle rare. Molto bene. Andiamo con l'ottavo. Forza! Shiny! Ma di nuovo! Io mi sento male. Vi giuro. Tra l'altro dovrebbero essere forse più di una UR. Perché c'era la scritta Arcobaleno. Maybe. Riuscirò a interpretare le schermate di All Stars per una buona volta? No. Ok? No. Ok. Benissimo. Non sono capace di interpretare le schermate di All Stars. Comunque, quella Rico ce l'ho già. Anche lei quasi mazzata. Vediamo. Eccola! No! Mi immaginavo! Mi immaginavo! Ciao, Emma! Sto male! Allora avevo capito, giusto! Una UR nuova! Molto bene! Questa AI! Yes! 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 Mi fa troppo ridere la Kasumi Baguette! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Shiny! Ancora! Ma cos'è? Una UR a ogni pool! Ma cosa vuol dire? Ancora! Ah! 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 Vediamo! Ok! Solo, tra virgolette, la UR? Ancora! What? Ancora quella AI! Mi sento male! Ah! 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 Questa carta, mi informerò, magari può essermi utile in qualche modo, oppure no! Comunque è bellissima l'animazione della piuma che si trasforma, veramente molto bella! Non ricordo se mi è capitato di vederlo ancora o se è la prima volta! Bene! Bene, amici! Siamo al decimo! Siamo al decimo! Forza! Shiny! Ok! Però secondo me... Se ho capito bene, potrebbe esserci un plot twist! Vediamo se... Se sono riuscita a interpretare! Ok! 2SR... 3SR... Esatto! Sì! Io veramente... Sto male! Ok! C'è stata canna! Questa macchina è nuova! Sì! Vabbè! Che dire, amici! Che bello! La worst! Io molto felice di trovare... Io... Però almeno è una guerra nuova! Quindi insomma tutto fa buono! E poi è gratis! Perciò ancora meglio! Vediamo chi è quest'SR... Ok! Questa mare ce l'ho già! Benissimo! 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 Andiamo con l'undicesimo! Shiny! Ancora un'altra UR! So che qualcosa è SWIRL! Vediamo dov'è! Vediamo dov'è lo SWIRL! Ma lo vedremo in animazione! Sono sicura che SWIRL! Sono proprio sicura! Questa cicca! Va bene! C'è qualche piuma che SWIRlerà! Dai! Dai che ho capito! Fui così che non SWIRL ho nulla! Non SWIRL ho nulla! Allora non ho capito un cavolo! Io onestamente devo proprio comprenderle le animazioni di All Stars! Ma comunque va bene! Un SR! Perfetto! Andiamo al dodicesimo! Ok! Qui non dico niente! Ok! 2 SR! 3 SR! Benissimo! 4 SR! Quella! Ricca! Questa Yoshiko che ho già! Questa Mari che adesso è al limit rack! Molto bene! Ok! Quest'ai è nuova! Benissimo! Dovrebbe essercene un'altra! Esatto! Oh! Amore mio! Amore! Finalmente si palesa anche lei! Bene! Andiamo con il tredicesimo! Siamo quasi alla fine! Siamo quasi all'altra! Ah! 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 Vabbè! Allora! Un SR! Dov'è la busta? Deve smirlare per forza! Oh! È nuova! Sì! È un SR nuova di Kotori! Finalmente! Finalmente! Dov'è che è su Irla? Eccola! Che fiato! L'animazione! Oh! Rina! È nuova! È nuova! È nuovissima! Benissimo! Molto bene! Molto molto bene! Sono forse più contenta per l'SR nuova di Kotori che per la UR di Rina molto bene! Andiamo col quattordicesimo pool! Ok! Vedete? A volte attorno al palco c'è il vuoto assoluto! Altre volte invece c'è tutta una struttura! Io pensavo che tutti i rigori, tutta la struttura significasse un qualche swirl! Non ci sto capendo più niente! Cosa vuol dire? Perché c'è una UR lì? Boh! Non lo so raga! Non lo so! La smetto di farmi domande! Secondo me vanno a caso! C'è trollano! E basta! Vediamo chi è la UR! Piange! Piango questo rico! OMG! Quanto è bella! Quanto è bella! Quanto è bella! Sì! Ed è nuova! Ed è bellissima! Ed è ricco! Sì! OMG! Quanto è stupenda! Oh! Grazie! Grazie! Bene! Andiamo col quindicesimo! Abbiamo quasi finito finalmente! Sto video verrà lunghissimo! Ok! Vedete che adesso qua ai lati ci sono altri tipo schermi! Non so che cosa siano! Ebo! Ok! 2 SR! 3 SR! Molto bene! Vediamo chi è! Chi sono! Ok! Questa io ce l'ho già! Questa è una caccello già! Un terzo dovrebbe essere alla fine! Vediamo! È nuova questa canata! Oddio che carino! Bianco! Oh my god! È bellissima! Bene! Penultimo! Forza! Shiny! Sorprendici gioco! Io sono veramente scioccata! Io sono veramente scioccata! Con le Stargent prenderò solo dell'SR! Guardate! Solo delle garantite! 2 SR! 2 SR! Eccola! 2 SR! E una UR! Ok! Questa è io! Ok! Tra l'altro è a Limit Break! Perfetto! Questa Nico! Perfetta come cleanse! Vediamo chi è! No! Ti prego! La worst! Tra l'altro che ho già! Dovrebbe essere Machinichal! Sì è Machinichal! Va bene! È gratis! Perciò! Ok! Andiamo con l'ultimo! Ultimo pull! E vediamo un po' se sarà un magico anche lui! Bah! Chissà! Pare di no! Pare di sim! Teorie sono solo SR! Ok! La garantita! No! 2 SR! Va bene! Va bene! Oh! Che carina questa Umi! È nuova! Bellissima! OMG! Ok! Comunque io quando pullo negli scout gratis! E sono tutta contenta! qualsiasi carta mi esca! Perché tanto le cose gratis! Wow! Ma che è il solo box di Umi! molto bene! Eh! Tra l'altro maxata la fresh fruit parallel! Come cavolo si chiama! Benissimo! E perché comunque ragazzi gli scout gratis vanno sempre bene! Sono roba gratuita anche se fossero state sulle SR! sarebbe andato bene adesso in pratica in 17 pool io dovrei aver trovato se ho contato in modo decente 11 ur di cui praticamente quasi tutte nuove ho trovato come doppione solo maki, kasumi e una delle due ai che una era nuova e l'altra poi doppiona quindi devo dire bottino assolutamente favoloso adesso andiamo con questi in questo step up che è fatto come potete vedere a parte il primo pool solo da da star jump paid in questo box sono presenti tutte le carte fess quindi anche quelle delle nighi però non c'è nessun tipo di rate up quindi onestamente non mi aspetto di trovare grandi cose comunque andiamo con il primo step che è quello gratuito che ci garantisce una sr insomma andiamo a vedere ok 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 due sr che bello in mezzo 4 sr molto bene ok questa umi ce l'ho già esatto questa l'abbiamo trovata prima amore no è la snowlation questa io volo via se è la snowlation volo via volo via vi giuro non lo so comunque è una carta di cotone nuova va bene ok ok sta canna ormai è a limit break massimo benissimo si wipe si 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 adesso andiamo con il secondo che ci garantisce anche lui un sr tra virgolette e basta andiamo forza shiny ciumciun qualsiasi cosa perfetto vediamo garantita no due sr tre sr quattro quattro sr molto bene anche qua vediamo questa karin ah è nuova ok basta questa mari please ok questa nico va benissimo è un'altra nico comunque ho controllato quella sr di prima di cotone è la snowballation si si benissimo dunque io direi che il video per ora lo scout per ora si si interrompe qua ho intenzione nel prossimo nel prossimo punto video di scautare nel banner fest delle acque perché nelle acque perché spero di trovare kanan e principalmente kanan poi in realtà mi andrebbe bene anche un po' quasi tutto come fest delle acque soprattutto scusate mare rico e anche chica e poi sparcare cotone fest con i quarzi perché si voglio usare 12500 star gem è follia ma lo voglio fare perché quella carta deve assolutamente essere mia e quindi insomma bene quindi sarà un video anche il prossimo molto lungo infatti probabilmente probabilmente lo dividerò in due quindi per l'anniversario vedrete tre video scout perché se no durano già questo probabilmente sarà durato quasi mezz'ora e non voglio insomma fare dei dei video lunghi 40 minuti e quindi niente ci vediamo direi al prossimo devo dire oggi scout stupendi cos'è questo download che mi fa fare così a caso pronto che è successo pronto bene dunque quindi io tra l'altro stavo guardando adesso più che altro ah no mi manca la mi manca la wonderful rush mi manca la wonderful rush e poi ho tutte le sr di kotori gaccia ed evento quindi insomma pian pianino si sa mai magari la trovo nei pool con le starge bene io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo ricordatevi di iscrivervi al canale ciao ciao ciuccio a io vi ringrazio mi manca la mi manca la mi manca la mi manca la